Carissimi il senso di questo video è anzitutto per un ringraziamento, un saluto e un'espressione di vicinanza, un ringraziamento per tutti quanti in questo difficile momento che stiamo affrontando, stanno dando tempo, energie, intelligenza per cercare di dare il proprio contributo, soprattutto mi riferisco agli operatori del mondo della sanità, medici, infermieri, infermieri personale, poi alle forze dell'ordine, agli amministratori, a tutti coloro che si stanno impegnando per essere vicini alle persone che hanno particolarmente bisogno, quindi un grazie e un incoraggiamento per tutti loro. Un saluto e una preghiera per tutto il mondo anche del carcere che ha vissuto e vive anche una situazione di, sappiamo bene, di tensione, di difficoltà, ecco che possa il bene comune prevalere e si possano sempre trovare momenti di accordo e di vicinanza. Poi un particolare ricordo agli ammalati ovviamente, li abbiamo presenti nella preghiera, a tutte le persone anziane che sperimentano un po' di più di altri, lo sgomento, la paura di questi momenti, ecco che possano sentire la vicinanza dei loro familiari, delle persone che sono vicine a loro nell'affetto, possano anche sentire la vicinanza della comunità ecclesiale sapendo che tutti preghiamo particolarmente per loro, così come abbiamo particolarmente presente i bambini, i bambini che stanno a casa, che magari non capiscono bene questo momento che devono vivere. Noi vorremmo che possano sperimentare il calore della famiglia e anche trovare il modo magari per recuperare dei momenti di familiarità in casa, di gioco con i genitori, che possano tranquillizzarli e farli stare bene. Poi volevo ringraziare particolarmente anche tutti i sacerdoti, i religiosi che hanno dato e danno il loro tempo, la loro disponibilità per farsi vicini alle persone, un pensiero particolare ai cappellani ospedalieri che vivono una prossimità appunto con questi ambienti dove si tocca con più mano la sofferenza. Ecco a tutti voglio dire coraggio, il Signore non ci abbandona mai, è una roccia su cui la nostra vita deve saper sempre edificarsi, è una roccia fedele, resistente. Ecco oggi la preghiera della Chiesa diceva saldi nella fede e operosi nella carità. La fede e la carità sono le due dimensioni che non devono mancare mai nella vita del cristiano e sono esse che poi sostengono la nostra speranza. Auguri a tutti e ci accompagniamo nella preghiera. Grazie.